Persino una pista ciclabile può causare danni all'ambiente, per questo il WWF della Friuli Venezia Giulia vuole sapere il percorso esatto della Cividale Tolmino, un'opera per la quale l'Unione Europea ha confermato un finanziamento di un milione e mezzo di euro appena tre giorni fa. Non si tratta di voler far parte ad ogni costo del partito del no, ma di ricordare che anche progetti apparentemente innocui per l'ambiente, come la realizzazione di una pista ciclabile, parliamo della Cividale Tolmino per la quale l'Unione Europea ha già stanziato un finanziamento da un milione e mezzo di euro, può creare problemi. Intanto perché si tratta pur sempre di mettere a punto una strada d'asfalto di due metri e mezzo di larghezza che attraversa luoghi in alcuni casi incontaminati e che incontra lungo il proprio percorso aree con diversi problemi geologici. Collegare per andare in bicicletta a Cividale con Tolmino, quindi lungo la valle del Natisone e dell'Isonzo è una bella cosa, solo che la nostra perplessità è sapere come si riesce a passare, perché la valle del Natisone è molto stretta, è sottoposta a frane da una parte e dall'altra parte c'è un ambito naturalistico di estremo valore, tanto da essere stato riconosciuto come sito di importanza comunitaria dall'Unione Europea. Ecco, quindi la nostra perplessità è come si passa da quelle parti, quindi non vorremmo che si parta alla rovescia, quindi si acquisisca un finanziamento e poi si vadano a fare le opere senza badare prima a quale può essere l'impatto naturalistico. Insomma, prima di decidere un tracciato ci si pensi bene, sostiene il WWF, che si augura inoltre che la pista ciclabile non sia anche occasione per la realizzazione in aree contaminate di nuovi edifici. Quindi noi chiediamo che se si debba intervenire non si vada in esponda aerografica a destra, verso il Monte Mia, si riutilizzi se possibile la vecchia ferrovia, eliminando i pericoli di frana, che purtroppo credo siano elevati, questo è un elemento di perplessità, e che tutto questo venga sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e anche che sia magari coordinato con degli esperti dei vari campi, che non ci sia solo l'ingegnere edile civile che costruisce la strada, ma ci sia una competenza multidisciplinare che valuti gli aspetti naturalistici, floristici, faunistici.